Dal Vangelo secondo Luca In quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli Mettetevi bene in mente queste parole, il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento È fantastico anche oggi il Signore, fotografa, probabilmente la nostra situazione di oggi la situazione di molti di noi, io credo che sia la situazione di tutti noi, magari non una situazione generale ma che per alcuni aspetti della nostra vita sicuramente stiamo vivendo esattamente come questi discepoli Come i suoi discepoli Cioè che non capiamo le parole del Signore Questo di mettersi bene in testa Che cosa? Che il figlio dell'uomo deve soffrire? Ma sì, ma sappiamo Perché mi dici oggi questo? Che vuol dire? Che stai dicendo alla mia vita? E' misterioso e oscuro Queste parole sono misteriose e oscure E tu non riesci a comprendere, cioè a prendere con te, a cogliere il senso Che vuol dire anche la direzione Perché di questo sta parlando il Signore Della direzione che ha la sua vita Che direzione ha la sua vita? Che senso ha la vita di Cristo? Che senso ha avuto la vita di Cristo? Perché se non capisci questo, se non capiamo questo Non capiamo neanche il senso della nostra vita E abbiamo molte volte timore di chiedergli Di interrogarlo su questo Quante volte noi fuggiamo la preghiera? Perché nel fondo sappiamo che nella preghiera Avremmo una risposta anche a quello che Razionalmente, secondo la logica umana E forse anche secondo la logica religiosa Non ha risposta Ma certamente Ci sono moltissime cose che il Signore non ci spiega Ma non significa che non le illumina Attenzione Una cosa è che si mette lì E comincia a aprirti dei libri E comincia a spiegarti delle cose E una cosa è che ti illumina La situazione nella quale stai vivendo Per te è oscuro, vero? Il carattere di tuo marito Che continua ad essere Lo stesso o forse sta peggiorando Tuo marito che si è trovato un'altra Per esempio Una cosa terribile E oscuro, vero? Però hai paura di chiedere al Signore Su questo argomento Cioè Volessi dal Signore che cambiassero le cose? Che tuo marito cambiasse? Che tuo marito Per esempio, dico una cosa grave Come quella di un tradimento Potrebbe essere qualsiasi cosa Una situazione di tuo figlio Una situazione Di tua madre Una situazione del lavoro Forse questa ennesima gravidanza Che va in fumo Che non riesce ad avere questo bambino Che sta aspettando da tanto tempo Vero? E che proprio Niente Niente La tua sterilità Forse Sì Di tuo marito Di tua moglie Ci sono cose che tu Però Non vuoi chiedere Cioè non vuoi Che il Signore Illumini La tua realtà Perché dentro di te e di me L'abbiamo visto tante volte Fratelli carissimi C'è una parte incorrotta Che è come un'antenna Che è lì Anche sotto le macerie Di tanti peccati Di tante murmurazioni Tanti giudizi Non so E lì L'abbiamo visto nel figlio prodigo C'è quella parte in sé Che è incorrotta Nella quale In questa parte Risonerebbe La parola di Gesù Cristo E paura Ho paura Perché Delegittimerebbe La mia ribellione Delegittimerebbe La mia murmurazione Mi metterebbe Al mio posto E questo non lo voglio Perché abbiamo visto No? Abbiamo parlato Dei Dei vittimisti cronici Che sono quasi Dei narcisisti Del vittimismo Si specchiano lì E si dicono Non quanto sono bello Ma si dicono Quanto sono povero Quanto sono disgraziato E quasi quasi c'è lì Una libido Perché è una forma Di stare al mondo Una forma Con cui Legittimare poi Le incavolature Le 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 Ti capiscano che gli altri stiano lì a sventolarti, ad accarezzarti, eccetera, eccetera Va bene, non per sminuire il dolore, assolutamente, il dolore che c'è, autentico, che graffia dentro le pareti dell'anima Quando il tuo marito ti tradisce e va con un'altra donna No, non sto sminuendo il dolore per non avere un figlio, il dolore per la paura, l'angoscia di fronte a un'analisi che ti dice, ti decreta un cancro Certamente, certamente, fratelli carissimi, è una cosa molto seria O di tuo figlio, che si droga, che ti inganna, che ti ruba i soldi E che poi alla fine non ce l'hai più fatta, l'hai dovuto allontanare da casa perché hai altri figli Ma quello ti spacca l'anima, ti spacca la testa, ma certamente Però, normalmente, noi abbiamo paura di metterci davanti a Dio, veramente Di metterci davanti a Gesù Cristo Abbiamo paura Perché sappiamo, nel fondo sappiamo Che se ci mettessimo lì, davvero nudi, davanti a Lui Avremmo una risposta Non secondo il mondo Non secondo il religiosamente corretto No Secondo quello che oggi ha detto Lui Secondo la sua logica Per questo dice, mettetevi bene in testa Siccome noi abbiamo paura Attento Siccome tu e Dio abbiamo paura Molte volte A me capita, tante volte, no? Di avere paura di mettermi lì in cappella e pregare Seriamente Quando ho un problema con una persona Quando ho un problema con me stesso Quando ho un'idea Che vorrei portare a termine Che vorrei vedere compiuta E vedo che ci sono difficoltà E nel fondo non voglio che qualcuno metta in discussione Quella mia stupenda, splendida idea Il mio splendido progetto Pastorale O quello che io penso su Cosa bisognerebbe fare con quella persona Con quell'altra O altre situazioni Abbiamo paura Di metterci lì Il Signore lo sa Il Signore sa che tu e Dio abbiamo paura Che siamo così deboli Così fragili Così presi Dalla nostra carne Dal nostro ego Che questo ego ci fa da schermo Tra noi e Lui Perché? Perché si vuole difendere Perché l'ego non vuole morire Perché l'ego, la superbia La parte superba di noi La parte orgogliosa Non vuole lasciare il campo All'umiltà Alla verità No Perché il demonio non ci vuole lasciare liberi Non vuole lasciare il suo bottino Allora siccome il Signore lo sa Lo sa anche che abbiamo paura Vera, autentica Che ci fa paura la morte Che ci fa paura Questo sentir parlare di violenza Di sofferenza Di soprusi Di ingiustizie Non le vogliamo Non le vogliamo Ma come abbiamo fatto Una rivoluzione francese La facciamo tutti i giorni Al posto di lavoro A scuola Con le persone che sono accanto a noi Facciamo costantemente Tiriamo fuori quelle ghigliottine Per tagliare la testa Ai re Che ci distruggono la vita Con le loro imposizioni Con le loro idee Con le loro politiche Ma sto parlando del marito E la moglie degli altri Non sto parlando di chissà di chi E il Signore viene a parlarci Che viene Sarà consegnato Sarà sputato Flagellato Distrutto Insultato Nullificato Tutto questo? Sì fratello Tutto questo Ti fa paura E mi fa paura Bene Il Signore sa tutto questo Sa che siamo così Per questo ci dice Oggi una cosa fantastica Mettiti bene in testa O meglio mettetevi bene in testa La traduzione letterale Dice mettiti bene nelle orecchie E sapete cosa vuol dire questo? Parla del servo di Yahweh Fratelli miei cari Dice così Il servo Il canto del servo Di Isaia Il Signore mi ha dato Una lingua da discepolo Perché Attenzione Il Signore mi ha dato una lingua Da discepolo Perché io Dice Sappia essere curvo Con chi è stanco Cioè mi sappia curvare Con chi è stanco Lui Il Signore Apre Dà una parola Che risveglia nel mattino Il mio orecchio Perché io ascolti Come ascoltano i discepoli Il Signore Dio Mi ha aperto l'orecchio Mi ha afforato l'orecchio E io non ho posto resistenza Non mi sono tirato indietro Ho presentato il mio dorso I fragellatori Le mie guance A coloro che mi strappavano la barba Non ho sottratto la faccia Gli insulti e gli sputi Questo è il cantico Del servo di Yahweh Di Isaia 50 Bene Vedete La gente era sbalordita Gesù aveva fatto un esorcismo Aveva cacciato un demonio Gesù E poi c'era stata la trasfigurazione Eccetera La gente era sbalordita Come tu e io Siamo sbalorditi tante volte E allora Vorremmo vedere sempre Miracoli di questo tipo Vorremmo vedere sempre Esiti Di successo E invece Quando arriva La realtà Quando arriva La sofferenza Abbiamo paura Bene Il Signore è entrato in quella paura Il Signore si è fatto carne Si è fatto servo Della tua paura Si è fatto servo di Dio Servo di Yahweh Per essere servo tuo Per mettersi oggi E sempre Ogni giorno Nella chiesa Ai tuoi piedi A lavarti i piedi Che cosa vuol dire Per fare di te un discepolo Perché tu possa camminare Dietro a lui Ti lava i piedi Perché tu possa metterli Sulle sue stesse orme Perché lui ha preso Una carne come la tua Lui nel Getsemane Ha provato Tutte le tue angosce Fratello mio L'anima mia È Straziata Dice nel Vangelo Giovanni E che cosa devo fare L'angoscia mi sta soffocando E che devo dire Padre salvami da quest'ora Ma non che non lo dice Questo il Signore Il contrario Non lo dice Entra lì Entra nella volontà del Padre Allora dice Il Salmo 40 Che la lettera degli ebrei Applica a Cristo Dice quando Cristo Entra nel mondo Dice questo Proprio quella parola Il Salmo 40 Non hai voluto vittima Per la colpa Un corpo mi hai preparato Mi hai perforato l'orecchio Come si faceva Come faceva Un padrone con il proprio schiavo Egli forava l'orecchio Lo marchiava Era mio Un'appartenenza Allora Dio ha fatto questo Con il suo figlio Per mostrare l'appartenenza totale Di quella carne Iguale alla tua Certo il peccato Che va a prendere Le conseguenze Dei tuoi peccati Che va a entrare Nella tua paura Nella tua angoscia Che per perforare Questa parete Di paura Questa parete Di angoscia Questa paura Scusate Questa parete Questa intercapelline Di orgoglio Che ci impedisce Chiedere al Signore Che sta succedendo Lui Ha preso la tua carne Si è fatto seppellire E' morto E si è fatto seppellire Lì dentro Ma ha distrutto Dio l'ha risuscitato Cioè ha distrutto Ha aperto un barco In mezzo a questa paura In mezzo a questa angoscia Che lui stesso ha vissuto Che lui ha assunto Per cui tu e Dio oggi Possiamo essere Dei catecumeni Cioè possiamo essere Degli ascoltatori Possiamo essere Dei discepoli Possiamo metterci Bene in testa Visto che tu e Dio Non possiamo Abbiamo L'opportunità Che qualcuno Ci metta in testa Cioè ci metta Nelle orecchie Scema Israele Ascolta Israele Qualcuno che ci fuori Le orecchie Qualcuno che Attraverso la predicazione Che riceviamo nella chiesa Ci faccia Di Gesù Cristo Ci faccia Appartenere a Cristo Per cui possiamo Ascoltare senza paura Magari tremando Certamente La verità Che quello che ci sta accadendo E' amore Qualsiasi cosa Ci sta accadendo C'è l'amore immenso Di Gesù Cristo Perché lui Si è Si è fatto servo Si è fatto l'ultimo E questo è il potere E questa La ex usia E questo L'autorità Di Gesù Cristo Il meraviglioso Lo straordinario Di Gesù Cristo E che è entrato Laddove nessuno Può entrare Nell'ultimo posto Nel fango Più melmoso Per strapparti Dalla morte Attento Attento Ascolta Lascia che La Chiesa Predichi Questa parola Perché quella parola Ti Perforerà l'orecchio E metterà Dentro di te La verità Metterà dentro di te L'amore infinito Che c'è Gesù Cristo Per te Cioè Come dire Imprimerà dentro di te Nel tuo cuore Nella tua mente Nella tua carne Questo che parla Lo scema Metterà dentro di te L'esperienza La certezza Inalienabile La certezza Che nessuno potrà più Rubarti Del suo amore per te Che si è manifestato Proprio Nella morte E la morte di croce In quello che è più assurdo In quello che fa più ribrezzo Quello di cui tutti Abbiamo paura Che stiamo sfuggendo Per questo Per questo Lui ti illumina Lui può illuminarti ogni giorno Nella parola Nella Chiesa A te E sacramente Ti potrà illuminare Che quello che sta Sta accadendo con tuo figlio Che è il tradimento Di tuo marito Nasconde un amore infinito Nasconde l'amore di Gesù Cristo Perché se lì tu sei crocifissa Con lui Stai partecipando Del suo amore Lui lì si sta donando a te Lui si sta dando a te Completamente Questo lo puoi vivere Nella Chiesa Lo puoi vivere Nei sacramenti Lo puoi mangiare Lo puoi ricevere Nel perdono dei peccati Lo puoi vivere Costantemente Ascoltando questa parola Che perfora Momento dopo momento Come una goccia d'acqua Sul ferro La predicazione La parola Ti perfora E ti fa di Cristo Ti fa appartenere a Lui E ti fa partecipare Con Lui Dello stesso mistero Per cui Quello che tu vivi È quello che ha vissuto Cristo Per cui sei un discepolo Con Lui Lui discepolo del Padre Lui che si è abbandonato La volontà del Padre Non la mia Ma la tua volontà Il suo sì Che distrugge il tuo no Il suo sì Che distrugge la tua paura Le sue lacrime Il suo sudore di sangue Per raccogliere il tuo sudore La tua angoscia Perché tutto possa passare Attraverso questa porta stretta Con Lui E tu possa Mentre vivi con Lui Il mistero della Pasqua Mentre vivi con Lui La morte E la risoluzione Nella storia che stai vivendo Possa tu Avere la risposta che cerchi E della quale hai paura Tutto è amore Tutto è grazia Tutto sta in un disegno Meraviglioso Che in cielo Potremmo vedere con pienezza Ma che qui Possiamo cominciare a pregustare Nella misura in cui Siamo uniti a Lui Nella misura in cui Ci lasciamo perforare Questo orecchio Lasciamo che Entri dentro di noi La sua parola Che contiene L'amore che va a compiere In noi Trasformandoci in servi Nel servo Per amare Quel figlio Per amarlo così com'è Per amare il tuo marito Per rimanere sua sposa Anche se ti tradisce Dice un segreto C'è qualcosa Di meraviglioso Che è oscuro Per il mondo Che è oscuro Per chi non conosce La risurrezione Come ancora i discepoli Non conoscevano Perché stavano andando Verso il mistero pasquale Ma erano ancora Diciamo nella prima parte Ma noi no Noi possiamo passare Da Attraverso la croce Per entrare nella risurrezione Attraverso il sepolcro Per entrare nella vita eterna E non avere più paura E tutto è chiaro Tutto diventa chiaro Anche l'oscurità più terribile Quella che viviamo Di non sentire nulla Della rività Della paura Tutto Tutto diventa chiaro Come l'alba di Pasqua Perché su tutto c'è questa ruggiata Di amore Di misericordia Che tu sperimenti Buon sabato Buona giornata Buona giornata